E' il ciolito, e' il ciolito, e' il ciolito, forse non lo hai capito, è appena finita la partita in rimonta, e' il ciolito Simeone, e' il ciolito, noi abbiamo il ciolito, Torino Cagliari, 2 a 3. E' il ciolito, e' il ciolito show. Musica Benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale, che partita Torino Cagliari, emozionante. Che battaglia che è stata, un grande Cagliari, un Cagliari veramente stupefacente, un 4-4-2 falso. Non mi state a dire che questo modulo, e' un 4-4-2 normale, somiglia più a un 4-2-4. In fase offensiva, questo Cagliari, può davvero fare bene. Tanta sofferenza comunque in difesa, solite amnesie, nonostante Godin, la difesa e' completamente da registrare. Questo Cagliari prende sempre troppi gol, una squadra finalmente battagliera, grande Casteldu che vince, rimonta in sofferenza. Ma soprattutto che attacco ragazzi, che campione, e' il ciolito Simeone, doppietta. E soprattutto ci mette sempre del suo Joao, Joao, che me lo volevano vendere Joao. Mitico Joao Pedro. Comunque, ottimo Toro, diciamoci la verita. Se il Toro, avesse mai pareggiato, non c'era niente da dire. L'ultima parte di gara, e' stata praticamente tutta degranata. Però, che Cagliari! Nella parte centrale di gara, c'e' stato solo ed esclusivamente il Casteldu. Bene, questa era la reazione che volevo vedere. Mamma mia, che goduria, che goduria! Godo, godo, godo! Toro che passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore netto. Dopo soli quattro minuti, Belotti 1-0. Ingenuita del Cagliari in difesa, rigore netto. Ma poi, dopo pochi minuti, ribaltone. Grande Joao Pedro, che dopo una bellissima azione cagliaritana, spinge praticamente la palla in rete. Un gol in mischia. Comunque, gran bella azione del Cagliari. Cagliari che quest'oggi mi è piaciuto, specialmente in fase offensiva. Ha fatto tre gol, ma secondo me poteva farne benissimo altri due, almeno. Joao Pedro, al minuto 12, pareggia. Uno pari, assist di Walukiewicz al minuto 19. E il ciolito, che campione! Super gol! 1-2 primo tempo. Qualche tiro dalla distanza, molto insidioso. Toro, che ha cercato quanto meno di pareggiare. Arriva il 2 pari al minuto 49. Ancora Belotti. Questa volta assist di Bonazzoli. Gran bel gol di Belotti. Quando ormai la partita sembra indirizzata verso il pari. Minuto 73. Gol vittoria del ciolito. Un gol in mischia. Traversone, lato destro. Non mi ricordo di chi. Comunque, gol. Tapping vincente di Simeone. Che campione! Fase offensiva del Cagliari da 8. Da rivedere, da registrare la fase difensiva. Casteddu, che spesso e volentieri si spacca a metà. Fa una grande fase offensiva, ma poi viene sempre preso in contropiede. Sempre infilato sulle corsie laterali. I due centrali del Cagliari spesso si ritrovano in inferiorità numerica. Simeone, un campione vero. Grande Joao. Buona gara, secondo me, anche di Sottil. Avanti così Casteddu. Torino 2. Cagliari 3. Hai capito. Noi abbiamo il ciolito. Se vi è piaciuto il video, pollice in su. Se volete, qui in basso, cliccate iscriviti, condividete questo video nelle vostre pagine social. Nel mio infobox troverete le mie pagine Twitter, Instagram e Telegram. Attivate la campanella. Ditemi la vostra, qui in basso, con un commento. Come avete visto il Casteddu? Cosa ne pensate di questa partita? Torino-Cagliari che goduria! Al prossimo video! Bless! Molotore! GlVIDU Cristo as Corbis. Ascri screen. Devo a te. Ascrizvi al canale. No trevi. vitalità nei suoi di i suoi del Such. MeMs. Grazie a tutti.